Io ho tutto ciò di cui ho bisogno. Sì, mio signore, come posso assisterti? Temo che non potrò più aiutarti con le antiche pergamene, mio signore. Ti prego, non essere adirato con me. Temo che nella fretta di leggere la prima pergamena non ho dedicato il tempo necessario alla mia preparazione, la colpa è mia. Come si evince dalle mie bende, non è che non sia mia intenzione farlo. Non posso fisicamente. Oh, ti prego, mio signore, perdonami. Se un simile miracolo esistesse, affronterei l'impossibile pur di farlo io e compiacerti. Sebbene morirei volentieri per mano tua, forse posso permettermi di suggerire un modo alternativo di leggere le pergamene. Oh, grazie, mio signore, grazie. Tamriel ospita luoghi particolari e segreti, noti come le radure ancestrali. A Skyrim ce n'è una nella foresta di Pini. Compiere il rituale della falena ancestrale nella radura dovrebbe darti le risposte che cerchi. È necessario prelevare la corteccia di un albero del cantico in modo da attirare le falene ancestrali. Quando ne avrai attirate a sufficienza, ti forniranno i mezzi necessari alla decifrazione delle pergamene. Per onorare la tradizione, nella radura ancestrale devi usare uno strumento specifico noto come coltello ancestrale. A tutti i sacerdoti della falena viene insegnato questo rituale, ma pochi hanno l'opportunità di eseguirlo. Se avrai successo, consideralo un privilegio. Secondo la mia visione, l'antica pergamena che presagisce la sfida agli dèi con il sangue dei mortali è la chiave della profezia. Purtroppo sì. È l'inevitabile fatto che accettiamo per poter leggere le antiche pergamene. In genere accade solo ai sacerdoti molto anziani, ma nel mio caso la fretta è stata un nefasto aiuto. Decifrare un'antica pergamena non è come leggere un libro. Sono necessari rituali particolari e un'intensa concentrazione. Possono volerci mesi o anni per completare una singola pergamena e altrettanti mesi per riprendersi. Come avrai certamente notato, non per niente siamo i sacerdoti della falena. La voce della falena ancestrale è da sempre parte integrante della lettura di un'antica pergamena. Oh, le falene non le leggono letteralmente, le pergamene, ma fungono da collegamento all'antica magia che permette ai sacerdoti di decifrarle. Quando trovi la radura, prova ad ascoltare con attenzione. Dovresti sentire il loro canto, una vibrazione delicata e armoniosa. È attraverso questa melodia ancestrale che le falene diventano profeti primordiali, nonché tramite per la decifrazione delle pergamene. Se il sacerdote ha accanto a sé le falene ancestrali, può sfruttarne il tramite e condividerne la divinazione. Solo i sacerdoti più saldi possono farlo. Ci vogliono anni e anni di pratica per interpretare l'armonia. Hai già fatto molto e hai trovato diverse antiche pergamene. Che tu ci creda o no, le pergamene hanno un'intelligenza propria. Se non vogliono che tu le trovi, non lo permetteranno. Proprio per questo credo fermamente che tu abbia la capacità di udire il canto ancestrale. C'è solo un modo per scoprirlo. Che la fortuna ti accompagni. Verranno. Cosa? Posso essere di aiuto? Vivo per servire. No, non ho bisogno di niente. Smetti di chiederlo. Va bene? No, non ho bisogno di niente.